Il segreto, puntate dal 3 al sabato 7 aprile 2018, Giulietta Lascia Piente e Bieco, anticipazioni settimanali, eccoci con le anticipazioni della settimana delle puntate Il segreto, in onda su canale 5, per questa settimana dal martedì al sabato, intorno alle 16.30. Se da un lato non ci sarà il puntato nel serale, i fan della SOP si potranno consolare col ritorno dell'appuntamento del sabato dopo l'incendio appiccato da Prudenzio c'è stata la tragedia della piccola Ana. La figlia di Giulietta stava in casa con la febbre quando il fumo delle fiamme le ha tolto il respiro per sempre. La giovane madre non ce l'ha fatta superare un tale dolore, è fuggita da Puente e Bieco. Tutto il paese la sta cercando, ma si sono perse le sue tracce. Dove sarà andata, in molti temono possa fare una pazzia. Nel frattempo Prudenzio si sente in colpa per la disgrazia avvenuta e Francisca teme che il giovane possa confessare tutto. Nicholas intanto decide di confidare a Camilla i suoi sentimenti, ma accade qualcosa di imprevisto. Ma ora entriamo nel dettaglio delle trame della settimana. Tutto il paese intero di Puente e Bieco è sconvolto per l'incendio al villaggio ci ha causato la prematura scomparsa della figlia di Giulietta, la piccola Ana. La bimba è rimasta incastrata dalle fiamme e per lei non c'è stato scampo. Giulietta non si dà pace per quello che è accaduto, ma non sa che dietro a tutto c'è la mano di Prudenzio. La giovane madre distrutta dal dolore mentre, Prudenzio, è divorato dai sensi di colpa. Donna Francisca teme che Prudenzio finisca per confessare la verità. Allo stesso modo anche Maurizio sente il peso di quello che è accaduto, ma come sempre la Montenegro riuscirà a tenerlo in pugno con le sue solite minacce. Intanto Camilla rivila un segreto a Nicolás. Il fotografo è da tempo segretamente innamorato di Camilla, ma sapendola sposata, è sempre rimasto un passo indietro e al suo posto. Ora però che avede grandi difficoltà tra la donna e il marito Hernando decide di dire alla Val des Haces di essere innamorato di lei. Ma a fermarlo nuovamente sarà la confessione della donna che gli rivila di aspettare un figlio dal Dos Kessos. L'Ortuno cosa farà a questo punto? Nel frattempo Saul va a cercare Julieta nei boschi, ma non la trova. La donna teme che dietro all'incendio ci possa essere proprio l'uomo di cui si è innamorata. Julieta non si è presentata al funerale della figlia Anna. Ha deciso di tornare sul luogo dell'incendio per cercare in quei luoghi qualcosa che le ricordi la figlia. Ma una volta entrata nella casa arsa dal rogo, incontra Erminia e le chiede di non dire a nessuno di averla vista. Saul, Prudenzio e Nicholas continuano a cercare Julieta, mentre Adela suggerisce che forse sia il caso di smuovere le ricerche presso la Guardia Civile. Le anticipazioni terminano qui. A presto con le prossime trame della telenovela spagnola.